C'erano due spettacoli in due sale diverse. Mi sono ritrovato ad entrare come spettatore e di aver capito, mentre ero seduto, che io dovevo entrare in scena. Io pensavo, ma quale spettacolo? Quale? 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 Poi di essermi svegliato, di essermi riaddormentato e di essermi ritrovato sul palco, quello grande, vestito di tutto punto. Mi ricordo che avevo tipo delle scarpe arancioni, mi ricordo la gente, i miei compagni di scena, nessuno sembrava preoccuparsi del fatto che io non mi ricordassi niente.